Tutti abbiamo un gruppo di amici, tutti quanti, con cui condividiamo le cazzate, le nostre avventure più grandi, le nostre emozioni più forti, ma ce ne sono di tanti tipi, tanti, tanti generi, ognuno ha il suo carattere, ognuno ha la sua personalità. Ah, vediamoli insieme con questa nuova puntata di I soli loqui di Ed, sigla! Uh, azzacquà! Cominciamo dal primo, il nerd, che ti rimbambisce fino a morbarti le olive. Ecco, tu sai che l'altra volta, ho ucciso un zioio, solo con una spada, e anche queste! Mamma mia, sono stato un mito! Sì, 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 che me l'ha fatto farmi? E non contento, quando a casa sua è iniziato un videogioco con lui, è la fine! Non ti lascerà andare via da casa sua finché non avrai finito quel fottuto livello che stavate facendo! Sì, facciamo una cosa, io poi dovrei andare, finiamo domani, dai! No, dai, facciamo così, finiamo il livello e poi dopo puoi andare via, dai! No, dai, senti, facciamo così! Doi, mi stiamo incidendo, dai, aiutami, cazzo! Io devo andare, veramente, devo andare, non posso, non posso proprio... Dai, su! Cazzo, 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 no! Tu rimani qui, deve finire il livello con me, se no, non puoi andarsene, ho capito? Vabbè, dai, su, basta, senti, io vado! Mi stanno aspettando i miei amici, dai, su! Non me ne frega un cazzo! Adesso rimani qui e finisci il livello con me, capito? Sì, 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 proprio, sì, sì! Ok, rimango, rimango, rimango! Numero 2 Il fumatore Ma che è tutto sto buio? Porco cane! Accendiamo la luce, accendiamo! No, no, la luce, no! Mi brucia la luce, no! Ma che fai? Ma che stai a fumare? Dammi subito quella sigaretta, sa, dammela subito! Dammela subito, dammela! No, no! È mia! Sarà mia! La mia sigaretta! Numero 3 La persona diversamente alta Che nonostante tutti gli insulti possibili che gli mandi Lei rimane ferma Quanto sei passata, una 10? Sarai alta, non so Sì, lo so, sono pasta, sì, ok? Sono un metro e mezzo parato, ok? Oh, sì! Vuoi continuare? Eh, ah, ah, che ridere! Sei un cretino! Oh, sei un imbecille! Non muove un muscolo! Anzi, ripensandoci Ne muove solo uno Il cervello Con cui ti manda Con i suoi pensieri I peggior colpi A volte anche trasformandosi Come Sarai alta Non so Un metro e mezzo Un barattolo Susanna dice Volve Susanna dice Volve Gli uomo armato di ascia Poi infine C'è lui Il migliore amico Che ti difenderà In qualsiasi situazione In qualsiasi momento Ti sarà attaccato Fino alla morte E' arrivata la tua ola Adesso ci faremo Mettere noi Dai Dai, dai Sono Sono tre cretini Ce la facciamo Dai, dai Dai che ce la facciamo Su, dai Sarai sempre con me Vicino Farei tutto quello Che ti dico Eh Sai che ti dico Ciao No 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 No